lo schiavo è arrivato il triste giorno della partenza come come ti senti le le tue emozioni prima della partenza io sonno io no poi dormirò tu no hai voglia di partire ma sì 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 ciao mammina ci vediamo fa due settimane eh sì mi sono già adagiato direi finalmente signori come avete visto finalmente un po brutto cioè mamma capisci non è che le gota che tutte le sia andata però comunque ecco finalmente ho casa libera signori quindi finalmente relax totale la gestione autonoma di una casettina di qualche metro quadro simpatica no così sembra che me la meno però c'è simpatica come situazione quindi sto bello nel chill sono fatto una toccina mi sono rasato tutto quanto sì poveri coglioni e adesso si aspetta perché sono le nove del mattino mi metterò a editare dopo il video di ieri che deve uscire oggi e oggi mi farò una caccia e pepe o pasta allo scoglio infatti poi voglio fare un biglietto anche su quella cosa lì e dopo mi toccherà andare al supermercato per prendere da bere ecco per stasera perché stasera come ben saprete ho la grigliata ecco quindi proprio top del top oggi signori top notches qui sotto nei commenti mi raccomando fatti auguri a marina che finalmente va un po in vacanza al mare dato che sapete da poco pensione non so se ne avevo parlato vabbè da poco in pensione quindi finalmente una vacanzina tranquilla senza lo stress di pensare che quando finirà le due settimane di vacanza deve tornare a lavoro quindi è proprio una cosa top un po ti capisco mammina e quindi niente semplicemente questo stamattina ho fatto la magica colazione ho comprato appunto mia mamma con i bagagli come avete potuto vedere alle sette e mezza del mattino e mi ha svegliato abbastanza in modo brusco ecco tipo andiamo andare guarda che ho vato e mi è venuto un panico totale mi sono dovuto alzare all'istante ecco per intenderci la cosa che stanotte non dormito veramente niente ho fatto fatica a prendere sonno dormito un po male lo scomodo non so per quelle ragioni ero scomodo nel mio letto quindi una cosa molto rara deve essere successo qualcosa ma avevo anche un po di pensieri per la testa un po di aranoia varie e quindi diciamo che è dovuto anche un po quello poi comunque sapete a meno per me funziona così per voi funzionare in un altro modo magari uguale a me non lo so ma quando il giorno dopo c'è un evento un qualcosa appunto mia mamma che va via e ho due settimane di casa libera mi chiaro uno stato abbastanza di eccitazione anche e quindi faccio fatica a prendere sonno perché sono sveglio in quel momento per tutte le magiche cose che girano il mio corpo in quel momento che faccio è un po come quando vai a letto il giorno prima e il giorno dopo hai una vacanza devi partire fai un po fatica a dormire ecco io ho anche questa cosa quindi sono un po due cose collegate ecco quindi ditemi un po se voi avete questa piccola cosa nei commenti mi raccomando vi aspetto come potete ben vedere mia mamma mi ha lasciato anche un altro foglio ho zoomato non so se si vede ma lunedì umido bidone nero non c'è nessun tipo di razzismo in questa frase ok giovedì umido e carta con sottoscritto metti lì fuori la sera prima passalo presto perché passa alle 5 del mattino devo ricordarmi che zoomate non devo entrare nel telefono ecco tirare su il tendone se viene brutto tempo o se esci e non torni presto stacca tutto pctv perché se viene brutto tempo devo staccare le cose base proprio ma mette innaffia attenzione i vasi vicino alla porta non dimenticarti tutti tranne le due grasse non si parla di body shaming si parla di piante quindi gente che si prende male con poco non rompetemi con io grazie ti voglio bene rispetta gli orari di notte mamma divertiti senza fare danni questo mamma non so assicurartelo e farò del mio meglio ma dopo tutto questo grande memore signori io direi che posso salutarvi qua così posso andare ad asciugare a fare tutte le magiche cose che perché devo un po pulire camera effettivamente e direi che ci vuole direi che la giornata perfetta dove ci siamo svegliati presto oggi comunque gente quindi devo presentare la mia casettina al meglio delle proprie possibilità se mi capite ecco e niente ragazzuoli io vi auguro una fantastica giornata spero che voi state passando una fantastica giornata appunto che sia che siate in vacanza o che siete a casa da soli o che siate con la vostra famiglia o con i vostri amici chiunque sia l'importante che voi stiate bene con voi stessi con chi vi sta intorno ok molto bene ci vediamo domani ragazzuoli con altro daily fucking vlog ciao 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 ciao